Buongiorno carissimi, come state? È un piacere potervi parlare del Vangelo di Gesù. Nel brano della prossima domenica, 17 ottobre, si parla di una richiesta che viene fatta a Gesù, la richiesta di essere i più vicini nella sua gloria, nel suo regno. Ma ecco, per avere un posto preminente nel regno di Gesù, non serve il desiderio di essere al di sopra degli altri, di avere sempre ragione, di averla sempre vinta. Non serve il desiderio di dominare sugli altri, avere un potere, una importanza davanti agli altri. Nel regno di Gesù la cosa più importante è essere a servizio degli altri, essere più umili, avere come Gesù questo cuore che si sacrifica per gli altri, fino a donare la vita. E allora noi ci possiamo chiedere, ma vogliamo davvero seguire Gesù così, essere suoi amici fino in fondo? È mica così facile essere umili, è mica così facile essere a servizio degli altri, e non è così facile sacrificare se stessi, donare la propria vita. Ma è Gesù stesso che si è fatto nostro servitore, che ha preso la strada dell'umiltà per il nostro bene, che ha manifestato l'amore, ma l'amore è quello vero, donando tutta la sua vita, sacrificandosi. E allora noi ci crediamo che questa strada di Gesù è quella vera? Ecco, se ci sentiamo davvero amati da Lui, sapremo anche nel nostro cuore che questa è la strada più giusta. E allora non cercheremo di primeggiare, di avere sempre ragione noi per forza, di avere un potere sugli altri, ma ci lasceremo prendere dalla bellezza dell'amore di Gesù, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ed è Gesù quello che ha donato tutto per noi, che ha preso l'ultimo posto per amore nostro. Ringraziamo Gesù e guardiamo quanto grande è l'amore che Lui ci ha donato. Ci vediamo presto.